Allora, c'erano a Neviano certi patroni che si chiamavano pastori, di cognome. Allora, quindi da ieri usciti con il rubano, si fornivano un mezzo di suono, cantavano e suonavano. Cantavano e suonavano. E allora, uno faceva il palo e due rubavano. Questo che faceva il palo suonava e diceva, e diceva, per farli stare tranquilli a rubare, lavorate lavoratori, dentro la terra dei pastori, lavorate allegramente, e stasciatano passaggente, e suonava per far vedere che era pacano. Allora, è così, per il rubano tranquillamente. No, no, tranquillamente.